Oggi le otto sigle sindacali rappresentative di categoria sono qui congiuntamente a manifestare il proprio dissenso, a rappresentare il personale che quotidianamente presta servizio presso l'Istituto della Casa Circondariale di Villa Fastigi e quotidianamente subisce aggressioni fisiche e verbali e ci chiedono con gran forza di dire basta. Oggi 6 settembre parte ufficialmente lo stato di agitazione del personale dell'Istituto di Villa Fastigi come avevamo già precedentemente comunicato sia agli uffici superiori dell'amministrazione che agli enti territoriali interessati. A tal riguardo siamo anche in attesa della data di convocazione da parte del signor prefetto di Pesaro che ha manifestato solidarietà e ha preso in gran considerazione le nostre doglianze. Ci avvaleremo delle forme di protesta consentite dalla legge. Oggi 6 settembre parte l'Istituto dell'Autoconsegna che ha due scopi. Il primo scopo innanzitutto è quello di tutelare, anzi autotutelare il personale che è in servizio presso l'Istituto di Pesaro Villa Fastigi. Il personale si tratterà oltre il turno programmato di servizio fino alle ore 18. Restando qui nei pressi della caserma o nell'esterno dell'Istituto dove abbiamo appunto istituito un presidio esterno, il personale è qui a disposizione eventualmente della sorveglianza generale qualora si dovessero verificare situazioni che richiedono appunto un intervento urgente. Il personale utilizza questa forma di protesta che ricordiamo è la più forte forma di protesta che la legge ci mette a disposizione. Abbiamo il supporto delle nostre famiglie che preferiscono non vederci tornare a casa al turno programmato per poter ottenere poi per il futuro lavorativo più sicurezza per l'incolumità fisica del personale il quale sempre più spesso esce di casa per venire a svolgere il proprio turno lavorativo e prima del rientro si deve ricorrere alle cure del nostro colmo cittadino. Il 20 settembre indiremo una manifestazione di protesta coinvolgendo gli enti politici e gli enti territoriali che vorranno venire qui a esprimere la propria solidarietà e a cui chiederemo sicuramente di intercedere presso i nostri uffici superiori dell'amministrazione penitenziaria per far sì che questa manifestazione porti ad ottenere le nostre due uniche richieste ovvero l'avvicendamento della direzione dell'istituto di Pesaro e il rientro del comandante di reparto titolare o la nuova assegnazione di un comandante di reparto titolare. Ricordiamo che nel giro di circa cinque anni sono stati avvicendati ben cinque comandanti e se oggi siamo qui e stiamo ponendo in essere tutto ciò la riteniamo una sconfitta, una sconfitta per tutti, la sconfitta del dialogo, la sconfitta della diplomazia. Un anno e mezzo fa eravamo qui, abbiamo manifestato, ci erano state fatte delle promesse, promesse disattese, se oggi siamo qui non è stata un estrema razzo, ci siamo arrivati con anni e anni di denunce, di richieste presso gli uffici superiori, sono state disattese e quindi siamo costretti a dar voce a quel personale che quotidianamente lavora in condizioni non dignitose, in condizioni di insicurezza.